Buona Pasqua! Nel mio sogno ho immaginato un grande uovo colorato per chi era bella gente dall'Oriente all'Occidente, pieno pieno di sorprese destinate ad ogni paese. C'era dentro la saggezza e poi tanta tenerezza, dal turismo, la bontà, gioia in grande quantità. Tanta pace e tanto amore da riempire ogni cuore perché è risorto il Signore.